Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì, da una nuova location oggi. Partiamo con la statistica del mese di maggio. Il numero degli abitanti di Fagnano è di 12.505, ci sono 13 decessi e 5 nuove nascite. Un caro abbraccio a tutte le persone che hanno perso i loro cari nel mese scorso e un benvenuto ai nuovi arrivati e un augurio a tutte le nuove famiglie. Nonostante le nuvole dietro che sono piuttosto nere, continua a piovere davvero poco e c'è siccità in tutto il nord Italia, quindi si consiglia di evitare gli sprechi d'acqua senza dover fare ordinanze comunali. Attendiamo un po' le comunicazioni di Alfa, ma davvero chiediamo a tutta la cittadinanza molta attenzione su questo fatto. Oggi 24 giugno è San Giovanni e del patrono di Bergoro, quindi buongiorno a tutti i bergoresi e da questa sera parte la festa patronale presso l'oratorio San Luigi di Bergoro. Proseguiamo con gli eventi della settimana, lunedì alle ore 21 nella sala consigliare del Castello Visconteo, il consiglio comunale, in diretta streaming anche sul sito del comune di Fagnano. Domani 25 giugno presso Calipolis lo spettacolo teatrale Classe di Ferro, mentre domenica sempre a Calipolis dalle ore 10.30 una giornata a tema dell'ambiente. Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo che partirà il 4 luglio dalla scuola Salvatore Orru. Un'ultima annotazione da fare, vedete che c'è un aumento in questo periodo dei casi Covid dovuto anche alla nuova variante, cerchiamo di prestare un po' tutti ancora attenzione per non ricadere nell'emergenza e non mi resta altro che augurare a tutti un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!